Un proficuo 2023. Così il sindaco di Baveno, Alessandro Monti, ha definito l'anno che si è appena concluso e ha voluto ricordare i numerosi interventi svolti. Tra essi l'avvio dei lavori di riconversione in appartamenti per anziani parzialmente non autosufficienti della casa dell'anziano Chiara Mattazzi, dal costo di 1.500.000 euro con fondi europei del PNRR. Parallelamente sono iniziati anche i lavori di ristrutturazione completa dell'asilo nido Giuse Buscaglia dal costo di 553.000 euro, sempre con fondi PNRR che sono valsi a finalizzare anche la riqualificazione della palestra delle scuole Fogazzaro da 550.000 euro. Sempre in materia di scuole, completati i lavori da 130.000 euro per la riqualificazione energetica dell'edificio della Materna di Ferriolo, con nuovo cappotto, sostituzione degli infissi e delle caldaie. Sono anche stati eseguiti interventi di sistemazione idraulica sul torrente Selvaspessa e idrogeologica del rio Fioretti, opere per complessivi 570.000 euro. Già progettato un ulteriore intervento da 250.000 euro, è stato aperto anche il nuovo parcheggio nell'area privata di via Gransci, via Stazione, approvato il progetto di 296.000 euro per il futuro completamento del parco di Villa Fedora con la riqualificazione delle serre. Svolta la manutenzione straordinaria della passerella ciclopedonale sul torrente Stronetta, che unisce Ferriolo alle piste della piana di fondotocce dei sentieri. È stato riqualificato totalmente il lavatoio di via Bertarello per 30.000 euro, con fondi dell'Unione Montana, Cusio-Mottarone e regimate le acque consolidati i versanti del rio Secco per 80.000 euro. Sono anche stati riqualificati i punti di raccolta rifiuti per non residenti con 105.000 euro. Di questa estate il via è il servizio di busso turistico tra Baveno e Ferriolo. I comuni di Verbagna, Baveno e Stresa hanno approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del primo lotto della pista ciclopedonale, che unirà le tre località piemontesi affacciate sul Lago Maggiore e partecipazione a bando regionale, previsti interventi per oltre 12 milioni di euro. Con lo stesso impegno, conclude Monti, lavoreremo per raggiungere gli obiettivi anche nel nuovo anno per continuare a migliorare la nostra bella città.